Siamo in compagnia di Marco Derè, coach di Firenze. Allora coach, 6-7, 7-5, questo dice il tabellone finale qui da Corneliano d'Alba, una partita comunque molto combattuta con l'Olimpo San Bernardo, impressioni a caldo. Prima di tutto faccio i complimenti ad Alba e a coach Jacomozzi perché ritengo sia una delle squadre che gioca la palla canestro migliore. Noi abbiamo provato a studiarli in questo periodo in cui loro sono stati fermi e diciamo che poteva essere una partita insidiosa per noi perché hanno molti modi di giocare con gli esterni spalle, giocano con Azici e Antenetti che possono alternarsi da 3 da 4, con Tarditi che purtroppo per loro oggi non c'era, però aprono molto il campo e questo chiaramente ci poteva mettere in grande difficoltà. È stata una partita combattuta, abbiamo provato a dare un paio di strappi, Alba è stata sempre brava a rifuscirli, è stata una partita molto fisica e alla fine siamo riusciti a dare la spallata decisiva. Per noi era importante perché abbiamo giocato un campionato quasi mai al completo, Passoni è rientrato solo da 4-5 partite, ha saltato tutto l'anno. Tra l'altro oggi 21 punti per lui. No, per noi è chiaramente una pedina importante come tanti altri. Infatti 21 punti per lui ma 21 punti per voi. Era importante venire qui e provare a giocare la miglior partita possibile, ci siamo riusciti i bravi ragazzi. Sì, tra l'altro lei descrivendola, comunque avete provato ad allungarla, Alba che ha ricocito gli strappi, vista da fuori è stata veramente un ottovolante di emozioni perché poi era un colpo su colpo. Io se devo vedere una chiave di lettura importante, sicuramente nell'ultimo quarto, dal 5-3-5-4 quando sostanzialmente Cianci ha fatto canestro, voi lì avete piazzato due trippi, due trippi che secondo me hanno scavato un po' il sonco ma soprattutto anche mentale, non tanto nel punteggio perché 53-60 lì avete fatto capire che probabilmente la potevate portare a casa. Sì, anche se poi non è mai detto perché... Un'indicazione, ecco. No, certo, assolutamente. Abbiamo giocato però partite nell'ultimo periodo con Ozzano, l'ultima della prima fase, diciamo, eravamo sotto tre a pochissimi secondi alla fine, l'abbiamo impattata, siamo andati a supplementare, abbiamo fatto il contrario con Rimini, avanti noi l'hanno impattata loro, quindi questo è uno sport meraviglioso perché non si può mai alla fine dire se è finito o meno. Forse la chiave è stata anche abbassare il quintetto, non togliendo i lunghi perché avessero demeritato, perché comunque Alba ci portava molto sul perimetro e in quella maniera lì siamo riusciti forse a contenerli maggiormente. Avevamo preso pochi vantaggi vicino canestro, abbiamo provato a prenderli allargando il campo anche noi. Altra chiave di lettura importante sicuramente quando Alba è tornata sotto, 6-4, 6-7, quando Antonietti ha messo la tripla, però lì poi voi con Passoni, poi insomma l'avete portato a casa, lì è stato veramente importante. Sì, siamo stati bravi a tenere mentalmente perché comunque Alba ha dimostrato in questo campionato di essere seppur giovane, però molto ben allenata e di grande temperamento, hanno una solidità mentale da fare invidia anche ad altri, anche a noi, perché spesso a noi è mancata. Noi oggi invece siamo riusciti a tenere duro fino alla fine, a compattarci, a buttarci anche sui palloni vaganti che durante la stagione sono stati a volte la chiave per gli altri e quindi niente, è andata e per noi è una vittoria importantissima. Adesso insomma la seconda fase è continua per voi, ovviamente che seconda fase è e qual è il ruolo che ovviamente Firenze vuole ritagliarsi, coach? Noi vogliamo provare a vincere più partite possibili per toglierci da una zona di classifica abbastanza scomoda. L'obiettivo è chiaramente la salvezza e l'unica cosa che posso dire è il fatto di aver giocato una prima fase andata-ritorno e una seconda fase solo con partite di andata questo chiaramente non dà un quadro completo della situazione perché i due gironi possono essere stati diciamo non ti voglio dire equilibrati però possono aver avuto squadre più o meno in forma all'inizio e in mezzo alla fine. Questa è una cosa che ci mancherà, il non poterci confrontare andata-ritorno con tutte le squadre di quello che adesso il giro ne ha. L'importante è provare a mettere più punti in classifica per allontanarci da quella zona che ci ha visto lì tutto l'anno quasi.